11 membri del Consiglio Comunale di Napoli hanno sottoscritto l'appello per la costruzione della lista autonoma che alle prossime elezioni europee del 25 maggio appoggerà e candiderà il leader della sinistra greca Alexis Tsipras alla presidenza della Commissione Europea e si impegneranno per raggiungere le firme necessarie alla presentazione. I dieci punti focali del programma di Tsipras sono incentrati su di un cambio radicale della politica di austerity imposta dalle nazioni attualmente al centro del potere continentale e soprattutto contrastare il dilagare della disoccupazione. Per ovviare alla fuga esolazionista e localista che sembra stravolgere il contesto europeo, Tsipras propone un cambiamento europeista all'insegna del rilancio degli ideali concreti promulgati dai pionieri dell'unità continentale basati sull'indiscutibile priorità della dignità umana. Ne abbiamo parlato con il consigliere del Comune di Napoli, Arnaldo Maurino. L'idea di un'altra Europa da mettere in campo rispetto alle politiche dell'austerity e le politiche che hanno dominato l'idea di Europa negli ultimi anni. Significa mettere in campo un percorso di Europa sociale, quindi di Europa dei cittadini, dei popoli che in questo momento manca perché ci troviamo solamente di fronte a un'Europa delle banche. Quindi il nostro percorso è un percorso che è partito dal basso, dove siamo riusciti a raggiungere in breve 220.000 firme, continua la campagna di raccolta firme e continua quindi la campagna di un'altra Europa con Tsipras che in questo momento rappresenta un'idea alternativa sia alle politiche del Partito Popolare Europeo che del Partito Socialista Europeo che con la Merkel fanno gli interessi delle banche con le politiche dell'austerity che ricadono inevitabilmente su quelle che sono le politiche degli enti locali.